I guadagni si aggiravano intorno a alcune migliaia di euro, il tutto reso possibile attraverso un meccanismo ben collaudato. A capo dell'organizzazione criminale Giuseppe Megna, finito in carcere, è la madre Rita di Piazza e i domiciliari, titolari di un noto autosalone di Viale Regione Siciliana a Palermo, finito sotto sequestro. Era proprio Giuseppe Megna ad acquistare sui siti internet diverse auto incidentate, intestandola a terze persone e estranea il meccanismo di riciclaggio e ricettazione. Le auto solo in un momento successivo venivano messe a un nuovo con il montaggio di parti di ricambio che a loro volta provenivano da mezzi rubati e da qui nasceva il primo introito da parte del gruppo criminale perché l'auto, dopo la contraffazione del numero di telaio, veniva emessa nel mercato e venduta nell'autosalone intestata a Megna e alla madre. Ma la stessa organizzazione aveva un'ulteriore fonte di guadagno. La stessa auto, corredata di alcuni dati identificativi, come il numero di targa e il telaio di un'auto gemella, veniva utilizzata per simulare falsi incidenti. E qui intrava in gioco Giuseppe Castelli, finita ai domiciliari, che assoldava coloro che si prestavano a mettere i sciai nel falso incidente, truffando così diverse agenzie di assicurazione. Un ruolo per niente di secondo piano era affidato a Salvatore Messina, il carrozziere che si occupava nelle diverse fasi di assemblare i pezzi in modo da rendere le auto vendibili a ignari acquirenti. Così, per i sei componenti, le accuse sono di riciclaggio, ricettazione e truffa. Sono finite domiciliari anche Orazio Fiorentino e Giuseppe Taormina, mentre 13 persone risultano indagate. Durante uno di questi controlli è risultato una macchina contraffatta. La macchina non era una semplice casualità, ma poteva far parte di un vero e proprio traffico. L'associazione si appoggiava a un carrozziere, a un meccanico di fiducia. Era un'organizzazione che era ben collaudato e tutto il giro che orbitava attorno ad essa.